La frana sulla statale 87 che collega Benevento a Campobasso sembra inarrestabile. Dopo anni di attesa, i lavori erano partiti a settembre scorso, quando gli operai incaricati dal comune di Torrecuso avevano avviato i lavori per arginare l'imponente movimento franuso che ad ogni pioggia si riversa sulla carreggiata della statale Sannitica. Una serie di gabbioni riempiti con centinaia di tonnellate di pietre che dovevano frenare il fango che inesorabilmente scende dalla collina a monte della statale. E invece con le ultime piogge il terreno e il pietrisco si sono nuovamente mossi e stanno avanzando verso la lingua d'asfalto che ormai da sette anni non è ritenuta più sicura. Tanto che il traffico viene spesso deviato lungo la vecchia viabilità o regolato da un semaforo che permette il transito su una sola corsia. I lavori urgenti finanziati dalla regione non sono serviti fino a questo momento a bloccare la frana. I gabbioni si sono inclinati sotto la spinta del terreno in movimento. Ora si attendono ulteriori finanziamenti per avviare le opere di contenimento delle acque a monte della frana. Solo così, spiegano gli esperti, si potrà sperare di bloccare il fango. Ma per ora la statale 87 Sannitica resta a rischio chiusura. Sannitica resta a rischio chiusura. A rischio chiusura.